Bisogna agire sulla prevenzione perché purtroppo i carnefici in caso di violenza domestica sono sempre quasi persone altamente disturbate. E la notizia di qualche giorno fa, quel signore in Alta Italia che prima ha ucciso la moglie e l'ha strangolata e poi lui stesso si è suicidato. Ecco, riflettiamo bene, non si tratta di delinquente abituali, si tratta di persone con gravi e gravissimi disagi fisici. Quale delinquente metterebbe fine alla propria esistenza dopo aver consumato un atroce delitto? E quindi la strada è soprattutto questo, la prevenzione. E vorrei poi annunciare un messaggio alle donne, denunciate. Non basta. L'intervento legislativo che ha rafforzato le pene per gli stalker non è sufficiente. Le donne continuano a morire per mano di uomini assassini, continuano ad essere violentate, continuano ad essere terrorizzate. Di passi avanti se ne registrano ancora pochi, mentre le cronache registrano femminicidi a Iosa. Il presidente dell'Ami, Alba De Felice, che si rivolge alle donne vittime di atti intimidatori, indica la strada da seguire. Importante, dice, è la rete familiare. Soprattutto l'appello è ai familiari delle vittime. Dovete stare vicini alle donne, alle figlie, alle sorelle, alle compagne che intuite siano vittima di violenza. E soprattutto poi fate attenzione anche ai bambini che crescono in questi contesti così violenti. I bambini vittima di violenza assistita sono anch'essi a loro volta tremendamente violentati. E sono proiettati verso un futuro di sofferenza fatto di stress, di ansia, di depressione. E inevitabilmente da adulti avranno dei gravi problemi e potranno essi stessi diventare a loro volta dei soggetti violenti.